E' una crisi senza precedenti e che sembra non aver fine è quella che ha colpito il comparto edile nelle province di Nuore e Ogliastra. Negli ultimi quattro anni il settore, che è un tempo attrainante per l'intera economia del territorio, ha fatto registrare la scomparsa del 50% delle imprese, degli operai e del monte salari. Gli investimenti nel 2012 hanno segnato un'ulteriore riduzione, meno 7,6%, toccando i livelli più bassi degli ultimi 40 anni. Dalle cause di questo disastro, i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, la stretta creditizia, l'eccessiva burocrazia e i vincoli del patto di stabilità. E' questo il grido di dolore lanciato dalle quattro associazioni provinciali che raggruppano le imprese edili, Confindustria, Confartigianato, CNA e Lega Coppi. I dirigenti hanno incontrato a Nuoro i consiglieri regionali, parlamentari e rappresentanti delle istituzioni locali e provinciali per illustrare la grave situazione in cui è precipitato il comparto. In una nota congiunta, le quattro associazioni ribadiscono la forte unità di intenti e la coesione nel mettere in evidenza le problematiche di un settore attraversato da una crisi pesante e silenziosa. Ai politici, i rappresentanti delle organizzazioni degli edili hanno ricordato i ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione in Sardegna, che hanno toccato il livello record di 400 giorni. L'altra faccia della medaglia è rappresentata la stretta creditizia degli istituti bancari che valutano le imprese sulla base dei conti senza entrare nel merito dell'attività. Il risultato è che le aziende in difficoltà finiscono per soccombere. Altra nota dolente è quella relativa alla burocrazia che aumenta i costi e dilata i tempi di esecuzione dei lavori. L'Ital per l'ottenimento delle concessioni edilizie, per l'avvio del cantiere e infine per la conclusione dei lavori, si legge nella nota degli edili, è sempre più lungo ed estenuante. Prima la SUAP e ora la DUAP sono una roulette russa che scoraggiano qualsiasi investimento. Anche le organizzazioni degli edili puntano il dito sul patto di stabilità che ormai rappresenta un freno per l'economia a qualsiasi livello. Per rispettare il patto di stabilità interno, sottolinea la nota, gli enti locali hanno agito quasi esclusivamente sulla spesa in conto capitale, posticipando l'avvio di nuovi investimenti e bloccando i pagamenti alle imprese. Questo a fronte ai lavori regolarmente eseguiti e in presenza di risorse disponibili in cassa. Nel periodo 2004-2010, per ottenere una riduzione di spesa del 6%, i comuni hanno ridotto del 32% le spese in conto capitale e aumentato del 5% le spese correnti. Nel 2013, senza interventi, si preannuncia anche peggiore con l'estensione del patto di stabilità ai comuni con meno di 5.000 abitanti.